Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Allora cari amici oggi parliamo del sensore che abbiamo nelle nostre macchine fotografiche e parliamo della sensibilità ISO che occorre per ottenere una giusta esposizione in una fotografia. Ma per il momento cari amici sigla! Facciamo una piccola intro su come funziona il sensore. Il sensore non è altro che un chip in silicio e serve a convertire la luce in elettroni in modo da riprodurre un'informazione digitale che permette appunto la riprodurazione della stessa scena inquadrata. Per la riproduzione di questa scena inquadrata subentrano i cosiddetti pixel cari amici che grazie alle loro cariche elettrostatiche tendono ad acquisire la luce e quindi imprimere appunto la luce sul sensore. Bene cari amici non so se voi vi ricordate negli anni 80 che c'eravamo con la bellissima televisione a tubo calorico in bianco e nero. Perché cari amici? Perché praticamente facendo questo processo qui cosa succede? Che il pixel acquisisce solo la luce però in scala di grigi e quindi il cosiddetto bianco e nero. Ma col passare del tempo cari amici si è inventato la matrice di Bayern. La matrice di Bayern tende a filtrare i colori in modo da far riprodurre l'immagine appunto a colori. Allora si potrebbe fare un video a parte per parlare solo di questa roba qua però io voglio fare solo un'infarinatura e tutto qua. Solo fare una piccola infarinatura per far capire un po' come funziona il sistema. La matrice di Bayern praticamente ha un pattern da quattro punti mettiamo caso di cui due verdi e uno rosso e uno blu. E quindi grazie a questa matrice noi andiamo a creare la cosiddetta gamma RGB ovvero quella che viene usata appunto per la gestione delle fotografie in digitale. Mentre cari amici per quanto riguarda la gestione dell'esposizione di una fotografia che come abbiamo visto nei video precedenti abbiamo bisogno della velocità dell'ottoratore, l'apertura del diaframma ed entra in gioco cari amici anche la sensibilità ISO. La sensibilità ISO serve appunto per una gestione della della luce delle nostre fotografie insieme a come dicevo in precedenza alla velocità di scatto e all'apertura del diaframma. Allora come vi ho detto nell'inizio del video i famosi pixel i famosi pixel acquisiscono la luce tramite le cariche elettriche ma quando ci troviamo in una situazione dove la luce è molto scarsa automaticamente il pixel per acquisire questa famosa luce a sufficienza è costretta a aumentare anche la carica elettrica ma purtroppo quando succede questo succedono degli artefatti presenti nelle fotografie e infatti vi faccio vedere qualche esempio dove purtroppo quella che è stata causata da una gestione dell'ISO molto molto alta e quindi quando noi per dirti ci troviamo in una situazione notturna e siamo costretti ad utilizzare dei tempi di scatto veloci perché la fotografia è in movimento oppure qualcosa del genere alzando l'ISO sicuramente ci troveremo in questa condizione quindi tipo in uno scatto notturno dovremmo utilizzare diaframmi aperti perché deve entrare parecchia luce utilizzare purtroppo dei tempi di scatto veloci e per appunto congelare l'immagine allora a quel punto siamo costretti ad alzare l'ISO però l'ISO nella sua caratteristica cosa succede che ti crea degli artefatti a causa appunto di una elevata carica elettrica allora nel video precedente e cari amici con e se andate a vedere la parte finale del video ho fatto tre fotografie utilizzando tempi diaframma e sensibilità ISO in maniera differente perché appunto per far capire che con la stessa esposizione però se tu giustamente hai delle esigenze particolari allora devi essere costretto a variare tempi diaframma e ISO appunto profondità di campo quindi se tu vuoi gestire una foto basata sulla profondità di campo quindi devi gestire puoi utilizzare la modalità a aperture sulle vostre fotocamere sulle vostre fotocamere mentre per dirti voglio avere una fotografia con una velocità di scatto elevata appunto per congelare un'immagine in movimento allora potresti mettere in s speed e gli imposti per dirti un 4 centesimo un 5 centesimo un 6 centesimo quello che ti serve quindi andrà diaframma e ISO si andrà a regolare appunto per avere un'esposizione corretta per quanto riguarda adesso le macchine recenti le macchine fotografiche recenti hanno un buon range di ISO si parla addirittura di qualche macchina che si parla anche di 100 100.000 ISO addirittura qualcosa del genere spero di non aver detto una stronzata quindi diciamo che anche di notte adesso in notte fonda comunque si riesce a riportare la foto a casa grazie appunto ai nuovi sistemi di sensori quindi sensori più sensibili alla luce e quindi possiamo utilizzare le nostre macchine fotografiche sfruttando luce ambiente anche in situazioni estreme diciamo allora noi abbiamo visto che per ottenere un'esposizione corretta di una fotografia dobbiamo avere questi tre valori tempo di scatto diaframma e ISO spero che comunque con questo video sono stato in grado un po di farvi capire il famoso triangolo della esposizione ovvero tempi di scatto diaframma e sensibilità ISO quindi cari amici allora se volete prendere in considerazione di iscrivervi al canale perché avete voglia di capirci qualcosa di più della fotografia e quindi vi farò dei video inerenti a questo ma non solo farò anche dei vlog farò anche delle recensioni farò degli unboxing e tutto quanto quindi cari amici se vi fa piacere una bella spolliciata su questo video una condivisione sui vostri social e spero che di essere in grado appunto di potervi farvi capire un po il mondo della fotografia e quindi cari amici non resta altro che salutarvi un abbraccio e ci vediamo al prossimo video e quindi cari amici il prossimo video farò un vlog dove vi porterò un po in giro penso anche con la mia bellissima harley davidson e andrò un po in giro così cominciamo a fare qualche scatto e vi faccio vedere un po come appunto all'atto pratico parlare di questo discorso dell'esposizione quindi cari amici ci vediamo al prossimo video